Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e come avete immaginato dal titolo, questo è un video tutto a tema capelli o meglio vi voglio parlare delle mie ossessioni, della mia hair obsession sapete che da quando mi sono trasferita a Milano, quindi ormai circa 4 mesi fa, il tempo davvero passa troppo velocemente i miei capelli si sporcono molto molto più velocemente sarà secondo me lo smog, laia di città, il fatto che comunque c'è stato un cambiamento dall'anno americano all'anno italiano, perché quando ero in America comunque vivevo in un paesino molto piccolo c'era un sacco di natura, c'erano gli alberi eccetera il clima è notevolmente cambiato da quando mi sono ritrasferita in Italia perché qui a Milano, come sapete, se vivete comunque in una grande città c'è molto più smog, l'aria è più sporca e io ogni giorno andando a lavoro insomma prendendo mezzi eccetera è inevitabile che i miei capelli si sporchino in più il mio è un capello molto molto fino, sotto è secco e ha bisogno di idratazione e sopra si sporca molto velocemente ed era proprio la mia ossessione che avevo negli ultimi mesi e sono doppiamente contenta di fare questo video perché ho risolto questa mia ossessione assieme a L'Oreal ho avuto l'opportunità infatti, come io vi avevo già anticipato su Instagram di passare un'intera giornata con Pierpaolo Lai a cui mando un abbraccio grandissimo e anche assieme a tutto il team di L'Oreal e mi hanno consigliato una nuova linea di L'Oreal, L'Oreal Elvive che è uscita non da molto sul mercato e si tratta di argilla straordinaria e mi hanno detto insomma che secondo loro ero la persona perfetta per provarli anche perché una delle cose che mi piace tantissimo di questa linea è che è senza silicone e quindi praticamente mi hanno fatto provare questa combo vi lascerò tra pochissimo il video tutorial che ho realizzato assieme a tutto il team assieme a tutto il team ragazzi, oggi non riesco a parlare e assieme a Pierpaolo Lai in cui appunto vi faccio vedere come applico questi due prodotti in particolar modo lo shampoo lascio i capelli super leggeri e anche molto voluminosi e comunque tutta la lunghezza è molto idratata non so se si vede anche nel video però vedete che sono super luminosi e voglio approfittare in questo video prima di farvi vedere il tutorial che ho realizzato con L'Oreal di cui sono veramente contentissima non vedo l'ora che li ho vediate vi volevo appunto dire che L'Oreal ha lanciato una novità sul sito che è qualcosa secondo me di davvero davvero utile hanno creato una sezione del sito tutta dedicata alle hair obsessions quindi alle ossessioni per i capelli magari avete il problema che avete i capelli super super secchi oppure avete i problemi di forfora o magari avete i problemi di un capello disidratato perché ha avuto tante colorazioni insomma all'interno della piattaforma Hair Obsession potete trovare tutti i consigli possibili anche i tutorial per risolvere la vostra ossessione per i capelli e secondo me è un'idea bellissima perché appunto ovviamente tutte voi che mi seguite ognuna ha un cappello diverso e ha anche esigenze diverse quindi servono magari prodotti diversi a ciascuna di noi e in questa piattaforma appunto potete trovare tutto quello che secondo me vi interessa e vi può davvero essere utile ovviamente prima di lasciarvi al video ovviamente poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi lascio nell'info box il link di L'Oreal Hair Obsession quindi proprio di questa piattaforma mi raccomando andatela a vedere e fatemi sapere se vi è stata utile in qualche modo e vi lascio anche il link del canale di L'Oreal perché nel canale youtube di L'Oreal Italia Hair potete vedere di nuovo non solo il mio video realizzato con L'Oreal ma anche i video di altre ragazze che hanno realizzato con me questi video tutorial risolvendo le loro sessioni che erano sessioni diciamo diverse dalla mia quindi un po' adatte a tutte a 360 gradi e nulla io spero che questo video vi piaccia spero soprattutto che il tutorial vi piaccia fatemelo sapere con un commento e con un pollice in su vi ricordo di passare a seguirmi sulla mia pagina Instagram Elisabetta Pistoni e poi rimanete sintonizzate nel canale nei prossimi giorni perché a breve uscirà proprio una detox routine in cui vi farò vedere proprio la mia routine per capelli e come applico diciamo questi prodotti vi faccio vedere insomma il prima e il dopo nulla ragazzi vi mando un abbraccio grandissimo vi lascio al resto del video e noi ci vediamo prestissimo ciao sono davvero ossessionata da quanto velocemente si sporcano i capelli soprattutto in città in questo caso ci vuole un Deep Detoxing ciao 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 ciao